Buongiorno a tutti carissimi amici miei, oggi ho un follower da salutare personalmente, saluto il signor Mario Leon di Tiktok che ho conosciuto, è un cantautore giù di meridionale, mi faceva una canzone che cantava lì su Padre Pio, mi ha scambiato l'art, lui si è scritto com'è, anche su Youtube, ma non so quel che ancora accetterà l'iscrizione al mio canale Youtube, dopo vi dirò, e che dire altro, vi auguro una buona giornata, oggi è lunedì, qui anche andremo verso l'estate, andiamo verso l'inverno, e che dire altro, saluto tutti, tutte e tutte, che dire altro, forza e coraggio, andiamo avanti, seguite quello che vi ho consigliato, è una bellissima persona, chi è a Tiktok seguitelo, è un bel canale, oggi pomeriggio stasera mi ha detto che farà una live su Tiktok, e che dire altro, forza e coraggio, andiamo avanti, vi auguro una buona giornata, qua un mal di schiena per fortuna sta passando, la botta posso dire anche quella sta misurando, c'è che dire altro, niente, ancora due giorni, dopo si torna a casa, scansa, si fa il ponte lungo, questa domenica, Franco tirerevo le orecchie, facciamo 51, boh, vi doi, dobbiamo fare 28, 51, 19, 73, 14, 20, e questi sono i numeri che giocare, che vi do, speriamo che vi inclicite, e vi ricordo, ricordatevi di me, ricordate di me, boh, amici miei, vi auguro una buona giornata, saluto tutti, saluto a tutti, mi raccomando, fate i bravi, iscrivetevi al canale qui, che vi ho detto, Franco Tonjar su TikTok, e anche Mario Leon, official, qua su TikTok, c'è anche su YouTube, mi raccomando, fate i bravi, iscrivetevi, vi voglio bene, vi auguro una buona giornata, buon lavoro, saluto i miei colleghi, i miei amici sparsi fa il mondo, e saluto anche il carissimo amico, che ha il bar qui, Bar Magic, che ho, mi sono fatto un buon caffè, un buon abrio, una buona brioche, devo, perché quelle bombe che prendo, meglio non rischiare, ora vado, saluto, e un abbraccio, a presto.